Musica Lea, ciao! Ciao! Fate le spese? Tante! Lo sai, stasera viene gente a cena qui, eh? Sì, una coppia Lei è una tedesca Pare che sia molto bella Io vado a ballare Tu vieni Si va? No, non posso Ho tante cose da fare, come al solito, sai? Beh, io vado Se cambi idea, fammelo sapere Magari Mi piacerebbe tanto ballare Ciao! Hai detto che avevi da fare? Anche qui c'è da fare Con l'aspirapolvere? Meglio Fra donne è meglio, non sei d'accordo? Qualche volta sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti